VIVO SU FORTNITE Ma quanto tempo è passato Il re dei bibini è tornato No ma veramente? Allora cari ragazzi Ma intanto mi arrivano mille inviti Spero che non si senta troppo rumore Questo appare il simone che continua ad invitarvi E' qualche mese che non carico video Effettivamente sono diventato un po' scarsetto Quindi ho detto Perché non invitiamo Baffo? Ci facciamo rinsegnare a giocare a Fortnite Ho perso un po' diciamo la mano E quindi oggi ci sarà una challenge proprio con il Baffega 10.000 like Per il ritorno del bibone Teniamo questa skin un po' imbarazzante Ma ci teniamo questa skin Un boccino a tutti e vediamo Vediamo se Baffo c'è perché magari poi non ce l'è anche Ma Baffo Baffo Ma sei tu? Certo che sono io Dov'è la tag R.C.N.U.? Ma poi cos'è sta skin? Quando è che è uscita? E' troppo bella questa skin Io un po' che non gioco a Fortnite ok? Beh E quindi tu oggi mi rinsegnerei a giocare Ha una sfida abbastanza difficile E ti spiego cosa succede Abbiamo tre possibilità ok? Dobbiamo scendere tutte e tre le partite all'agenzia ok? E se non dovessimo vincerne neanche una Tu ormai hai accettato di partecipare a questo video Vuoi darmi 50 euro? Testimoni tutti i bivini Va bene Guarda che me li dai veramente 50 euro eh? Vai E diamo Te li dai Vai Però io dai Che abbiamo skin bag e con questa non ce la faccio Ne metterò una molto particolare Che forse ti ricordi Sono già morto Va bene Prima Va bene Vai allora Prima partita all'agenzia Le hack le ho messe Ci siamo Siamo pronti Let's go Senza tagare cn Che disonore Baffo Se crash o bestemmia Vai Baffo ci siamo Allora Vediamo di atterrare bene Ok Sembra che siamo atterrati bene Io provo a prenderla Provo a prenderla I miei 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 Let's go baby Uno ucciso Mi sa che pure l'italiano No sono morto Ma come baffo Eh sta partita mi sa che è andata Non ho più colpi Quello è mio Quello è mio Quello è mio Quello è mio Sì sì Eccolo là Ah bello No c'è il bot Basta kill me la prendo Non c'è materiale Cristo Cristo Vabbè La prima andata La prima andata Ok seconda partita Baffo i 50 euro Potresti già iniziare a prepararli Dai non puoi morire in pubblica L'agenzia sua C'ha miseria per favore Dove è atterri te Sopra No c'è troppo giante Sopra mi sa Anch'io ve lo sotto Qua c'è un bel R Me lo prendo Ok Oddio quanta gente Oddio quanta gente No questo c'è uno di vita Dov'è Ok un ucciso Bravo Baffo Vai vai Questo qua vado a quittare Dove sei? Oddio Non ci credo Non ci credo Baffo Non ci credo Ma chi è? Ma chi è? Ma da dove? Ma chi è? Non ci credo ragazzi Non ci credo Non ci credo Ok Ultima partita per Baffo Io sono già morto Subito Bravo Baffo Bravissimo Baffo Eh io sono morto subito Qua ragazzi Baffo la sta carriando Eccoli Questo non sembra scarso eh Oddio Ha direttamente di drammi Non usa il pompa Ok metto una scala Si attenta all'albero eh Che rompe un po' Oddio l'ha distrutto Ma questo con la pistola Cosa voleva fare? Cosa voleva fare con la pistola? No che infamata Oddio L'hai rischiata eh L'hai rischiata Ho sentito il portafoglio A svuotarsi Eccolo là 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 L'hai visto L'hai visto Questo è il tuo Baffo eh Drama oro Ma cosa fa? Io lo sento valizio Baffo Lo sembra anche lui Questo Mi sa che era un bot Poverino Ok ha trovato il compagno Questo è convinto Questo neanche costruisce Un buon presentimento Baffo è impazzito Inizia con build Edit Manux Il fizzuto italiano È partito Non sa Baffo Che sta finendo i materiali Ok Bell'edit Un po' è inutile però Impazzito Baffo Ma 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 E Baffo come al solito Ci fa sognare Ci fa sognare Occhio Occhio Questo non mi sembra scemo Invece sì Invece sì Ok 8 kill per Baffo Bello sto Barrett Altri là Altri là Adesso Baffo voglio vedere Barrettata e pompata Sì Sono qua sotto Ma cosa fa? Ma cosa fa? E hop Occhio dietro però Sopra Forse c'era conosciuto Mamma mia che botta questo E torna in lobby Cosa stava facendo? Vabbè questa easy vinta Che pizza Mi servivano Sti 50 euro Devo comprare la pizza Stasera Ma cosa sta succedendo A questo elicottero Scusa? Stai buggato? Non se l'aspettava Poveria Occhio che l'elicottero rompa No Adesso Non rischiavla così Non rischiavla così Già non capisco cosa dici Guardalo là che salta E' bello quello scaroro Guardalo là che salta Barrettata Barrettata Vabbè questo qua Non lo combetto neanche Tre vicichillette Quello è il rampino Non si ruba il rampino a baffo Non si ruba il rampino a baffo Ciao bello Mamma mia che spam Mi sa che la mia resistita Funziona bene Sta funzionando benissimo Oh mio dio Cosa mi tocca vedere Bravo baffo Ma la usi da 3 km La drammi 2 killit Bravissimo Ti ho fatto un sacco di vita Bravo Non è scarso Non è scarso Non è scarso Aiuto F per baffo Ah è morto Così Ah io pensavo fosse quello a terra Perfetto Dai dai Ma qualcosa dai dai Poi i 50 euro Non me li dà Può ancora morire Può ancora morire Oh eccolo qua il rampino Ok che ti mira Con il cecchino Mi sono spaventata per te Questo è un bot Questo è un bot Via Salva gente Fallo tornare in lobby Per favore Ok E torna in lobby No 13 kill 19 kill Peccato Le 20 non può farle A parte quei tunnel Non si sa neanche per quale motivo Li flexa Li sta flexando Ecco qualcuno che li spara Oh Sono tuoi baffo Sono tuoi Si blocca un po' Avanza E c'è su E su E su Questi qua si stanno spaventando Stanno vedendo cose mostruose Ma quello neanche costruisce Vabbè dai Ciao 17 kill Un'altra jump Io penso che questa sia la partita Con più jump usate Nella storia di fortnite Eccolo Trovato Questo qua si bacca un bel 180 no scoop Ma così è brutto Baffo Ok Ora è one shot Ora è one shot Niente Ok Questo è molto aggressivo È molto aggressivo Mi sai baffo è tuo Vole si prepara C-80 Niente Non lo so Non so neanche mai finito Se vol Probabilmente è sparato a me Che sono morto Si riprepara Però se non tieni Se non tieni Il cecchino Abbastanza vicino qua E' pronto di nuovo 180 360 Niente 50 euro E niente Torniamo in lobby Bravo baffo Allora tra poco Ce l'evento Quindi direi che Chiudiamo Mi hai insegnato qualche No scherzo Non mi hai insegnato Praticamente nulla Il solito baffo Non diventerò mai forte Come lui Quindi Non è stato un video Istruttivo per me Niente Non lo sento neanche Cioè quindi Ma pure io Ti sento valissimo Ragazzoni 10.000 like Per un prossimo video Bocione da me Da baffo E presto Tornerai con la tag Ve lo garantisco Volete supportarmi Nello shop Con il vostro acquisto Di video Bene ragazzoni Se volete supportare Il mio canale E' molto importante E basta Adesso ragazzi Supporto un creatore E basta digitare B Basta Basta Fai Accetta E ogni volta Ragazzi Che comprate Qualsiasi cosa Nello shop Che sia un ballo Che sia una skin Che sia un piccone Andrà a supportarmi Per me Vi assicuro Che è molto importante Magari Non costa nulla Siccome Ragazzi Magari Volete già Sciopare una skin Con supporto un creatore Non vi cabirà nulla Inoltre Taggandomi su Instagram In una vostra storia Probabilmente Se dovessi vederla La riposterò Sbloccherò i direct Perché lì si sbloccheranno E ogni tanto Se riuscirò Vi risponderò Tutto questo Un salutone da vivo Fate bravi ragazzi